Mahmood torna al Festival di Sanremo ed è pronto a sorprendere i fan. Dopo due vittorie su due, il cantante milanese torna sul palco dell'Ariston con il brano Tutagold. Nel corso della conferenza stampa organizzata alla vigilia della Kermess, Mahmood ha presentato anche il suo nuovo album, Nei Letti degli Altri, in uscita il 16 febbraio. Da aprile inoltre, il cantante italo-egiziano è pronto a un tour in giro per l'Italia e l'Europa. Ma ascoltiamo nel dettaglio cosa ci hai raccontato. Il mio prossimo disco si chiamerà Nei Letti degli Altri. Ho iniziato a scriverlo quasi due anni e mezzo fa. Il no più di questo disco alla fine è il letto, perché il letto sia il nostro porto sicuro. È il luogo in cui torniamo la sera a casa, guardiamo il soffitto, esorcizziamo i nostri problemi. È il luogo dove portiamo le persone che amiamo di più, i nostri migliori amici, le persone che amiamo. Devo dire che a livello emotivo sento di essere maturato molto, molto sì. Credo che questo disco mi abbia fatto un po' tornare agli origini, ho pensato tanto al punto di partenza. Da perché ho iniziato a fare questo lavoro, perché ho voluto tanto fare questo lavoro e nel modo di raccontare le storie ho ripensato tanto anche al mio primo disco, molto bruciato, e devo dire che Nei Letti degli Altri per me è una visione a 360 gradi, molto specifica sulle relazioni. Negli ultimi due anni e mezzo sono cambiato tanto a livello proprio personale, ma di come ho gestito i rapporti con le persone nuove che ho conosciuto. Grazie. 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 Grazie.